Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e oggi un nuovo video. Vi ricordo che se avete piacere potete seguirmi su Instagram e vi ricordo che sono attiva anche su Facebook, vi lascio il link nell'info box. Detto questo, andiamoci dentro a quel video. Il caso di cui parliamo oggi ha suscitato un'ampia attenzione mediatica e ha portato ad accese discussioni sulla sicurezza pubblica e sulle leggi penali, specialmente per quanto riguarda il monitoraggio dei criminali condannati in libertà condizionale. Reagan Talks nasce il 13 marzo del 1995 a Edgewood, una città degli Stati Uniti d'America che si trova nello stato del Kentucky, più precisamente nella Contea di Kinton. I genitori di Reagan si chiamano Toby e Lisa, mentre sua sorella si chiama Mackenzie. Reagan ama profondamente la sua famiglia, alla quale si dedica al massimo appena può. All'epoca in cui si svolge il caso che la vede come protagonista, cioè nel 2017, Reagan ha 21 anni. È una ragazza vivace e frizzante che esprime tanta gioia di vivere, adora gli animali e trascorrere il tempo libero all'aria aperta, immersa nella natura. Ha anche un carattere compassionevole ed è cresciuta secondo gli insegnamenti cristiani, aderendo a un'ideologia che la guida nel suo percorso di vita. Per anni, infatti, Reagan è andata in missione con la sua chiesa pronta ad aiutare i bisognosi. Mentre frequentava la Anthony Wade High School, giocava nella squadra di lacrosse, uno sport tipicamente nordamericano, il cui obiettivo consiste nell'imbucare una palla di gomma nella porta avversaria, servendosi di una racchetta triangolare munita di tele. Restando nell'ambito dello sport, Reagan si dimostra molto capace anche nel tennis. Tuttavia, lei non è soltanto una ragazza atletica, ma è anche una studentessa brillante. Infatti, si è diplomata al liceo con il massimo dei voti. Dopodiché, Reagan ha raggiunto un importante traguardo, iniziando a frequentare la Ohio State University, dove sognava di entrare fin da bambina. Come detto, Reagan è nata in Kentucky, ma in realtà è cresciuta proprio in Ohio, nella cittadina di Monclova. Quando aveva sette anni nel 2003, suo padre la aveva portata ad assistere a una partita di football dell'Università dell'Ohio, ed era stato quello il momento in cui la piccola Reagan aveva già detto a suo padre che, da grande, avrebbe voluto frequentare quell'università. Da allora lo ripeteva sempre. Subito dopo il diploma di Reagan, la sua famiglia si è trasferita in Florida, ma lei ha deciso di restare in Ohio per proseguire qui il suo percorso di studi. Durante il suo primo anno di università, Reagan si è iscritta alla facoltà di medicina, ma si è resa conto che il corso di chimica organica non faceva proprio per lei, quindi ha cambiato progetti e ha deciso di studiare psicologia. Reagan ama aiutare le persone e vuole svolgere una professione che le permetta di dedicarsi al prossimo, a coloro che soffrono di problemi di dipendenze, di salute mentale e di disordini psicologici. A questo proposito, Reagan ha già un obiettivo per il suo futuro dopo la laurea, quello di ottenere un incarico alla Cleveland Clinic, dove lavorare per qualche anno prima di aprire il proprio studio. Intanto Reagan è impegnata in diverse attività extra-accademiche e frequenta svariate lezioni alquanto complesse. Ha trovato anche lavoro in un bar-ristorante del gruppo Bodega, situato nel vivace quartiere artistico Short North di Columbus. Quando non è alle prese con lo studio e lavoro, Reagan ne approfitta per spendere il suo tempo con le persone che ama. La ragazza, come detto, nel 2017 ha 21 anni. In questo momento sta frequentando l'ultimo anno di università e ormai vive fuori dal campus, in un appartamento a Grove City, nell'area metropolitana di Columbus. Insieme a lei abitano quattro coinquiline di nome Jackie, Madison, Kirsten e Stephanie. Le ragazze erano già a compagne di stanza nei dormitori del campus durante il loro primo anno e siccome sono andate tutte d'accordo, sono diventate amiche e hanno deciso di farlo di proseguire la convivenza anche all'esterno. Reagan inoltre esce con un ragazzo di nome Jake, ma dopo un po' di tempo la coppia, di comune accordo, decide che è meglio interrompere la relazione e concentrarsi sugli studi. Reagan in realtà soffre per questo distacco, ma sa che è stato meglio così perché è a un passo dalla laurea ed è questa la sua priorità. Suo padre le ha già comprato una cornice per appendere la pergamena che la proclamerà dottoressa. Il 5 febbraio del 2017 Reagan scrive sui suoi social quanto sia entusiasta di aver quasi completato il percorso universitario. È un periodo molto emozionante per lei, non vede l'ora di inserirsi nel mondo del lavoro per dare inizio alla sua carriera. Nel pomeriggio dell'8 febbraio 2017 Reagan arriva al bar-ristorante Bodega per svolgere il suo turno di lavoro. Alle 21.45 quando ha terminato, la ragazza si avvia verso la sua macchina che è posteggiata nella strada alle spalle del locale. Lei e tutti gli altri dipendenti di Bodega parcheggiano sempre lì vicino alla propria auto. Ciò nonostante, quasi tutte le sere, Reagan chiede a un collega di accompagnarla alla vettura. Tuttavia dopo il turno dell'8 febbraio, Reagan si incammina da sola. La ragazza ha l'abitudine di tenersi sempre in contatto con la famiglia e alcuni amici. Infatti anche durante le ore di lavoro si è scambiata dei messaggi con suo padre. Nell'ultimo messaggio che la ragazza gli scrive, gli promette che lo avrebbe chiamato appena uscita dal ristorante, come fa di solito per tranquillizzare i suoi cari. Eppure, la sera dell'8 febbraio, Reagan smette di rispondere ai messaggi e non chiama mai suo padre Toby. Alle 22.30 sia lui che la sorella di Reagan, McKenzie, sono ormai piuttosto preoccupati perché non è proprio da Reagan sparire così. Entrambi nelle ore successive le telefonano più volte, ma non ottengono risposta. Alle 2 di notte il telefono di Reagan risulta staccato. Infatti parte immediatamente la segreteria. Anche questo è davvero strano. Reagan non spegne mai il cellulare, quindi i suoi familiari passano la nottata in apprensione, ma cercano di non farsi travolgere dal panico. A tratti hanno pensato all'ipotesi peggiore, cioè che la loro Reagan abbia avuto un incidente in macchina, ma poi hanno cercato di confortarsi a vicenda, immaginando spiegazioni che non sfocino in tragedia. Reagan forse si è intrattenuta con degli amici e non si è resa conto che il suo cellulare si è scaricato. La mattina seguente una delle coinquiline di Reagan, Kirsten, entra nella camera da letto dell'amica per svegliarla, in modo da prepararsi per la lezione che seguono insieme. Tuttavia Reagan non si trova nella sua stanza. L'ambiente è pulito in ordine, il letto è rifatto e non c'è niente di strano che salti all'occhio. Inizialmente Kirsten ipotizza che Reagan si sia svegliata presto e che quindi ne abbia approfittato per avviarsi in biblioteca. Dopotutto, durante la settimana dovrà sostenere degli esami intermedi. Gli occhi di Kirsten però continuano a ispezionare la camera da letto di Reagan e notano che lo zaino dell'amica è lì presente. Verso l'ora di pranzo, Kirsten e le altre coinquiline di Reagan sono ormai preoccupate, perché la loro amica quella mattina non si è proprio presentata a lezione. È davvero insolito che si sia assentata, specialmente nella settimana di metà trimestre. Così le ragazze decidono di recarsi al bodega nella speranza di ottenere notizie dai colleghi di Reagan. Tutti affermano che lei, la sera prima, si è presentata al lavoro, ha svolto il suo turno e si è avviata verso la macchina intorno alle 21.45. Il manager di Reagan però è perplesso. Anche lui sa che non è da lei non ritirarsi a casa e non presentarsi alle elezioni. Così, tutti insieme, decidono di chiamare il 911 per sporgere una denuncia di persona scomparsa alle autorità locali. La polizia di Columbus inizia immediatamente a indagare, dialoga con tutti coloro che conoscono Reagan e scopre che davvero tante persone avevano cercato di mettersi in contatto con lei senza riuscirci. Gli amici di Reagan contribuiscono alla ricerca postando sui social media la notizia della sua scomparsa, chiedendo a chi avesse informazioni o l'avesse avvistata di farsi avanti. Come sempre in situazioni simili, per prima cosa, la polizia indaga sul fidanzato o sugli ex fidanzati della persona scomparsa. Dunque, nel caso di Reagan, gli investigatori approfondiscono il suo legame con Jake. Come detto, i due si sono lasciati da poco, quindi forse c'è stato qualche contrasto tra loro. In realtà, quasi immediatamente, la polizia esclude Jake dalle indagini. Diverse persone dichiarano che lui è un bravo ragazzo, inclusi gli amici più intimi di Reagan. Inoltre è un alebi solido e non ci sono informazioni che può fornire in merito alla sparizione della sua ex. Tuttavia, le ricerche di Reagan non si protraggono a lungo. Purtroppo, intorno alle 13 del 9 febbraio 2017, i servizi di emergenza sanitaria ricevono una chiamata da parte di un cittadino chiaramente angosciato. L'uomo afferma di essersi imbattuto nel corpo nudo di una giovane donna, riverso a terra vicino all'ingresso del Sayoto Grove Metro Park, un parco metropolitano di Grove City. Quando la polizia arriva sul posto, individua subito il cadavere che giaccia a terra, parzialmente ricoperto dalla neve. Nei pressi non si rinviene né un documento di identità, né un portafoglio o altri effetti personali e nemmeno i vestiti della donna si trovano nei dintorni. Per queste ragioni risulta complicato identificare la vittima, ma gli agenti sono al corrente che è stata appena denunciata la scomparsa di una ragazza. Di certo, il tatuaggio presente sul corpo della donna può fugare alcuni dubbi, infatti le coinqueline di Reagan purtroppo confermano che la loro amica aveva proprio quel tatuaggio. Dunque, la vittima viene identificata, si tratta della 21enne Reagan Tox. Il suo cadavere viene sottoposto a un'autopsia, dalla quale emerge che la ragazza ha subito violenza intima ed è morta a seguito di due ferite da arma da fuoco inflitte alla testa. Le hanno sparato a una distanza medio ravvicinata. Uno dei proiettili è entrato attraverso la parte posteriore del suo cranio ed è ancora conficcato lì, mentre l'altro ha colpito il lato sinistro del suo viso. Dopo aver delineato la causa del decesso, agli investigatori preme comprendere perché qualcuno ha fatto questo a Reagan. Viene descritta come una donna gentile, amata da tutti quelli che la conoscevano. Dovete sapere che proprio in questo periodo la polizia è già in massima allerta a fronte dell'ondata di criminalità e di attentati che si stanno verificando nella zona tra la fine di gennaio e l'inizio di febbraio 2017. Nello specifico, il 23 gennaio una donna si trovava nel garage di casa sua per prendere alcuni oggetti dal bagagliaio della sua auto, quando era stata aggredita alle spalle da un uomo dal volto coperto che aveva tentato di derubarla. Il giorno seguente un'altra donna, mentre era all'esterno della propria abitazione, era stata assalita dallo stesso uomo mascherato che le aveva puntato un coltello alla gola chiedendole dei soldi. La donna, spaventata, gli aveva dato tutto ciò che aveva in quel momento, ovvero 3 dollari. Il 27 gennaio c'era stata un'altra aggressione. Il criminale dal volto coperto si era avvicinato a una donna che stava camminando verso l'ospedale pediatrico in cui lavorava. Le aveva puntato un coltello alla gola dicendole che non doveva gridare, altrimenti l'avrebbe uccisa. E le aveva ordinato di consegnargli la sua borsa, dove era riuscito a trovare soltanto alcune carte regalo. Il 1 febbraio, sempre lo stesso uomo dal viso sconosciuto, aveva estratto una pistola per minacciare un cittadino e l'aveva derubato di 20 dollari. Il giorno seguente il ladro, imperterrito, aveva rapito un'altra donna e l'aveva costretta a recarsi presso un bancomat per prelevare del denaro, sempre sotto la minaccia di una pistola. Il 6 febbraio, l'uomo mascherato aveva attaccato un'altra donna mentre si trovava fuori da casa propria. Le aveva puntato una pistola alla testa ordinandole di consegnargli la sua borsa. In questo caso, però, era stato molto più violento. Siccome lei non gli aveva prontamente consegnato la borsa, lui gliel'aveva strappata dalle mani, aveva spinto la vittima a terra e l'aveva colpita in faccia con il calcio della pistola. Era riuscito a rubarle 38 dollari. Il 7 febbraio un'altra donna si trovava all'esterno dell'ospedale pediatrico dove lavorava ed era stata derubata anche lei sotto la minaccia di un'arma da fuoco. Questa volta il criminale ignoto aveva rubato la sua borsa e tutto ciò che c'era all'interno. Dopodiché, il giorno seguente, qualcuno aveva aggredito e rapito Reagan, aveva esercitato violenza intima su di lei e infine gli aveva tolto la vita. Purtroppo, la polizia non è ancora riuscita a identificare l'uomo mascherato che aggredisce e deruba una persona diversa quasi ogni giorno. Ma è stato lui a uccidere Reagan? Nel frattempo, il prossimo passo nelle indagini è usare un lettore di targhe per localizzare l'auto di Reagan. Gli investigatori scoprono che è parcheggiata in un quartiere residenziale vicino a circa 4 miglia dal bodega, il bar e il ristorante in cui Reagan lavorava e dove era stata vista per l'ultima volta. Quando rintracciano il veicolo e ne esaminano l'interno, si rendono conto che qualcuno aveva tentato di bruciarlo, infatti trovano una tannica di benzina. Nella vettura si rinvengono anche diverse ricevute del bancomat che risalgono tutte alla notte in cui Reagan è scomparsa. Tuttavia, la maggior parte di queste ricevute indica dei prelievi falliti ad eccezione di uno pari a 60 dollari. In ogni caso questo ritrovamento sembra suggerire che il responsabile delle numerose aggressioni e rapine avvenute in zona sia l'assassino di Reagan, dato che anche lei era stata rapita con la sua macchina ed era stata costretta a effettuare dei prelievi bancomat. Nell'auto, la polizia individua anche dei mozziconi di sigarette, il che lascia sperare che sia possibile prelevare il DNA dell'aggressore di Reagan. Pochi giorni dopo l'invio al laboratorio dei mozziconi di sigarette, arrivano i risultati dei test e gli investigatori scoprono che il DNA lì presente corrisponde a un profilo già presente nel loro database, quello del 29enne Brian Goldsby. Quest'uomo è conosciuto dalla polizia della zona perché ha accumulato diversi precedenti penali. Infatti era stato in prigione per scarsi sei anni prima di essere rilasciato nel novembre del 2016, dunque poco prima della morte di Reagan. Brian ha compiuto reati come furto, violazione di domicilio e recitazione di beni rubati. È stato anche accusato di aver minacciato sua madre con un coltello quando era un adolescente ed è stato condannato per aver esercitato violenza intima su dei bambini di 5 e 6 anni. Da adulto aveva rapito una donna incinta di 8 mesi insieme a suo figlio di 2 anni. L'aveva costretta a recarsi presso un bancomat per prelevare del denaro e poi a guidare fino al suo appartamento. Una volta in casa aveva esercitato violenza intima su di lei davanti al suo bimbo piccolo. Infine l'aveva obbligata a fare la doccia e a spazzolarsi i denti in modo che il suo DNA non fosse presente su di lei. Dopo che la donna aveva denunciato l'aggressione la polizia era riuscita a raccogliere prove sufficienti per confermare l'accaduto. Quindi Brian era stato accusato di due capi di imputazione per rapina a mano armata e violenza intima. Tuttavia siccome la vittima era terrorizzata aveva deciso di non testimoniare al processo. Di conseguenza Brian aveva accettato un patteggiamento. Si era dichiarato colpevole soltanto di rapina a mano armata e di tentata violenza intima. Era stato condannato a 6 anni di prigione e classificato come un molestio di terzo livello ad alto rischio di recidiva. Mentre era in prigione inoltre aveva commesso 52 infrazioni tra cui possesso di merce di contrabbando e furto. Nonostante ciò era stato rilasciato anticipatamente rispetto ai tempi previsti dalla sua condanna ma con delle precauzioni. Dato che era un delinquente ad alto rischio gli era stato imposto di indossare una cavigliera elettronica con un sistema di monitoraggio gps. Inoltre doveva presentarsi regolarmente dal suo agente di sorveglianza. Dopo il rilascio Brian era stato collocato in una casa di accoglienza insieme ad altri delinquenti ma il suo agente di sorveglianza purtroppo non monitorava affatto le attività dell'ex detenuto. La cavigliera elettronica dell'uomo trasmetteva segnali di allerta alla società madre che possedeva il sistema operativo gps. Quindi gli agenti addetti al controllo della libertà vigilata avrebbero dovuto intervenire in caso di qualsiasi violazione. Ad esempio se Brian si fosse spostato al di fuori dell'area a lui assegnata o se avesse violato il coprifuoco il suo agente di sorveglianza avrebbe dovuto essere informato. Purtroppo però nessuno teneva davvero traccia di questi dati. Di conseguenza la commissione per la libertà vigilata non era al corrente delle molteplici violazioni di Brian. Dall'inizio di dicembre alla fine di gennaio ne aveva commesse ben tre nei soli primi due mesi di libertà. Non aveva rispettato il coprifuoco che gli era stato imposto, si era tolto la cavigliera e in un'occasione non si era presentato in tempo dal suo ufficiale di sorveglianza. Per non parlare di tutti i nuovi crimini di cui è colpevole infatti è proprio Brian, l'uomo mascherato, artefice delle aggressioni di cui vi ho parlato avvenute tra la fine di gennaio e l'inizio di febbraio 2017. Nel giro di una settimana aveva commesso sette reati, per lo più contro delle donne, ne aveva picchiate e derubate diverse, bilacciandole con dei coltelli ed era riuscito persino a procurarsi una pistola da usare durante gli attacchi e i furti più recenti. Tutti i movimenti di Brian e di conseguenza le aggressioni erano stati registrati dalla cavigliera elettronica, ma non erano mai stati segnalati. Dunque la polizia non gli aveva attribuito tutti quegli assalti ravvicinati nel tempo. Soltanto dopo l'omicidio di Reagan, con l'arrivo dei risultati del DNA ricavato grazie ai mozziconi di sigaretta trovati nella macchina della ragazza, è sorto questo sospetto e sono stati esaminati i dati del GPS estrapolati dalla cavigliera elettronica di Brian. I dati ottenuti confermano che è lui il responsabile delle molteplici aggressioni commesse in zona. È lui l'uomo mascherato, dato che si trovava nei posti e nei momenti in cui si erano verificati tutti questi assalti. Questo controllo induce la polizia a indagare ulteriormente nell'area in cui erano state individuate Reagan e la sua macchina. Magari gli investigatori possono ottenere dei video di sorveglianza che inchiodino Brian al rapimento di Reagan. In effetti qualcosa trovano. Come ricorderete, quando la polizia aveva perquisito la macchina di Reagan, aveva rinvenuto all'interno dell'auto anche diversi scontrini relativi a dei tentativi di prelievo falliti e una tanica di benzina. Le autorità, a tal proposito, riescono a recuperare un filmato delle telecamere di sicurezza di un minimarket, il quale mostra Brian proprio mentre acquista una tanica di benzina che corrisponde a quella trovata nell'auto di Reagan. La polizia ottiene anche diversi video grazie alle telecamere dei bancomat girati durante i tentativi di prelievo falliti. Alle 22 dell'8 febbraio le riprese di sorveglianza presso una filiale della Chase Bank mostrano Reagan mentre tenta di prelevare 500 dollari, ma l'operazione era stata rifiutata. Alle 22 e 24 un filmato della Huntington Bank inquadra Reagan che tenta di nuovo di effettuare un prelievo, ma nemmeno questa volta l'operazione era andata a buon fine. Tra le 22 e 18 e le 22 e 30 la telecamera di un altro edificio, immortala Reagan e Brian fermino un vicolo e si ritiene che questo possa essere il luogo in cui aveva esercitato violenza su di lei. Dopo un po' i due erano tornati al primo bancomat in cui erano stati e Reagan era riuscito a prelevare 60 dollari. Successivamente la telecamera di sicurezza della stazione di servizio li riprende mentre Brian acquista la tanica di benzina. Infine altre telecamere mostrano che, tra mezzanotte e luna, i due si erano fermati al Sayoto Grove Metro Park. Reagan piangeva, era terrorizzata. Alla fine Brian le aveva sparato due volte, rivolto verso la parte posteriore della sua testa. Durante l'autopsia il medico legale aveva trovato del seme nelle parti intime della vittima e si scopre che anche queste tracce corrispondono al DNA di Brian. Così l'11 febbraio del 2017 una squadra SWAT fa irruzione in casa di Brian, lo arresta e lo porta alla stazione di polizia dove l'indagato viene sottoposto a un interrogatorio dalla durata di sei ore. Inizialmente Brian nega di avere qualcosa a che fare con l'omicidio di Reagan ma ammette di averla derubata. Afferma che quando Reagan aveva lasciato il bar ristorante in cui lavorava l'aveva aggredita ed era salito con forza nella sua macchina. L'aveva poi costretta a recarsi presso diversi sportelli bancomat della zona con l'intenzione di sottrarle tutti i soldi che aveva. Dopodiché l'aveva portata in un posto isolato lungo la strada e l'aveva obbligata a spogliarsi. Brian spiega che si era limitato a ordinarle di rimanere lì, ad aspettare per 30 minuti. Intanto gli aveva preso i vestiti per portarli via con sé, era salito sulla macchina di Reagan e l'aveva messa in moto guidandola fino a una zona residenziale. Una volta posteggiato aveva abbandonato lì il veicolo. Brian giura che Reagan era ancora viva quando l'aveva vista l'ultima volta, ma il detective che sta conducendo l'interrogatorio gli fa presente che hanno trovato il suo DNA non solo sui mozziconi di sigarette rinvenuti nella macchina di Reagan ma anche nelle sue parti intime. Brian a questo punto cambia la sua versione dei fatti. Afferma che era lì quando avevano sparato a Reagan ma continua a negare di essere lui il suo assassino. Riferisce che quella sera non era da solo ma in compagnia di un certo TJ. Brian racconta che aveva un debito economico con questo TJ. Ecco perché erano usciti insieme quella sera. Avevano entrambi progettato di derubare Reagan in modo che TJ avrebbe riavuto indietro i suoi soldi. Durante l'interrogatorio Brian ribadisce che il piano prevedeva soltanto di derubare Reagan ma all'improvviso questo misterioso TJ l'aveva costretto a esercitare violenza sulla ragazza rapita. Brian sostiene che lui avrebbe voluto scappare ma siccome aveva paura per la sua incolumità e per quella della sua famiglia aveva obbedito alla richiesta di TJ. Dunque TJ aveva portato entrambi nella zona di Sayoto Grove Metro Park dove aveva costretto Reagan a spogliarsi ed era stato sempre TJ a sparare alla ragazza alla nuca e lei dopo il colpo era caduta a terra. TJ allora le si era posizionato sopra e le aveva sparato di nuovo perforando il lato sinistro del suo volto. Brian aggiunge che sì era andato a comprare la tannica di benzina con TJ in modo che potessero dar fuoco alla macchina di Reagan per sbarazzarsi delle prove. Inoltre Brian rivela agli agenti dove si trovano il portafoglio e il telefono della vittima così come la pistola che è stata usata per ucciderla. L'arma del delitto è una rivoltella che viene individuata in una fogna di una zona residenziale. La borsa e il portafoglio di Reagan sono stati invece conservati da Brian che li ha regalati alla sua fidanzata come dono di San Valentino. Brian ha esposto sufficienti dettagli per confermare alla polizia che era presente al momento dell'omicidio di Reagan. Infatti ha dichiarato la sua versione dei fatti riportando diversi particolari. Tuttavia Brian non è in grado di fornire alla polizia delle informazioni riguardo a TJ. Non sa descrivere il suo aspetto, non conosce il suo cognome, ignora dove si trovi la sua casa e tutto questo concorderete con me è a dir poco sospetto. In realtà la polizia sa benissimo che Brian è l'unico responsabile dell'omicidio di Reagan quindi viene accusato di rapina aggravata, violenza intima aggravata e omicidio aggravato. Brian continua a dichiararsi non colpevole anche se ha ammesso o grosso modo ricostruito tutto quello che è successo la notte dell'otto febbraio. Mentre attende il suo processo in prigione, Brian riceve due visite da tre donne che lo conoscono. La prima è Jennifer Nichol dalla quale lui ha avuto una figlia che all'epoca dei fatti ha sei anni. Jennifer gli chiede senza troppi giri di parole se lui avesse esercitato davvero violenza su Reagan per poi ucciderla e stavolta Brian confessa di averlo fatto. La sua ex comprensibilmente rimane inorredita, infatti se ne va immediatamente. Qualche mese dopo va a trovarlo un'altra donna di sua conoscenza, la quale gli chiede perché abbia ucciso Reagan e lui risponde che aveva bisogno di soldi per crescere sua figlia. Ma chi mai potrebbe crederci? Di certo fare violenza su una donna non è un atto correlato all'intenzione di derubarla. Inoltre con il ricavato di quel furto Brian ovviamente non pensava di poter provvedere a sua figlia. Aveva spillato a Reagan soltanto 60 dollari. Ma di che stiamo parlando? Anche una cara amica di Brian e Jennifer di nome Brittany Step fa visita all'indagato in prigione per cercare di ottenere delle risposte e anche davanti a lei Brian ammette le sue colpe. Arriviamo al 13 febbraio del 2017. Brian fa la sua prima apparizione in tribunale dove gli viene negata la libertà su cauzione quindi deve rimanere in prigione in attesa del processo. Nel frattempo arriva la data in cui la giovane e ambiziosa Reagan avrebbe dovuto laurearsi. È il maggio del 2017. Al suo posto a ritirare l'attestato di laurea che le viene concesso si reca la sua famiglia. A distanza di poco più di un anno dall'omicidio il 5 marzo 2018 il processo per omicidio a carico di Brian inizia. L'accusa afferma che Brian Goldsby è un criminale già condannato e un molestatore registrato. Aveva esercitato diverse volte violenza intima contro le donne. Gli rappresentanti dell'accusa presentano dettagliatamente tutte le prove del DNA che hanno raccolte di cui vi ho parlato durante il video. Queste dimostrano che Brian era stato in macchina di Reagan e che si era approfittato di lei. Durante il processo emerge anche che il DNA di Reagan era stato trovato sulla canna della pistola usata nell'omicidio. L'accusa affronta anche la questione della cavigliera elettronica di Brian collegata al GPS la quale evidenzia che l'imputato aveva effettuato lo stesso percorso di Reagan e della sua macchina quella notte. Il GPS ha monitorato anche la velocità con cui Brian stava procedendo in ogni momento quindi è possibile comprendere se dopo l'omicidio lui stesse camminando o se fosse a bordo di un veicolo. Come vi ho già detto prima Brian ha ammesso di aver rapito Reagan la notte dell'omicidio. Secondo il GPS l'8 febbraio 2017 Brian si era aggirato per il campus dell'Ohio State University intorno alle 19.30. Poi aveva preso un autobus e si era diretto in centro. Alle 20.09 è stato tracciato mentre camminava intorno al bar ristorante Bodega dove lavorava Reagan. Aveva vagato per circa un'ora in quella zona dopodiché verso le 21.42 aveva rapito la ragazza. Si era spostato prima alla Chase Bank e poi alla Huntington Bank dove Reagan era stata ripresa dalle videocamere di sorveglianza. Poi i due avevano raggiunto un veicolo ed erano rimasti lì per 12 minuti. Anche in quel caso erano stati filmati da una videocamera di sorveglianza che mostrava Reagan ferma in macchina. Si continua a credere che fosse questo il posto in cui la 21enne era stata aggredita intimamente dal suo rapitore. Dopodiché il GPS ha rintracciato Brian nella stazione di servizio in cui aveva acquistato la tannica di benzina e infine al Sayoto Grove Metro Park dove successivamente era stato scoperto il corpo di Reagan. I video di sorveglianza confermano che non c'era nessun altro a parte lui e Reagan in quel momento. Il GPS poi ha tracciato l'imputato mentre si era recato a casa dalla sua ragazza per regalarle la borsa e il portafoglio di Reagan come imminente dono di San Valentino. Il giorno dopo l'omicidio il GPS aveva localizzato Brian nell'area in cui era stata abbandonata l'auto della vittima. Insomma abbondano le prove che attestano che quella notte Brian si era spostato con Reagan. Inoltre era stato rintracciato in ogni singolo luogo collegato al suo omicidio. Di conseguenza è stato certamente lui a ucciderla. Bisogna poi considerare anche la testimonianza al processo di due delle donne che erano andate a trovare Brian in prigione e avevano ascoltato la sua ammissione di colpevolezza. L'imputato aveva confessato di aver esercitato violenza su Reagan e di averla uccisa. Le due donne spiegano anche che la notte dell'8 febbraio avevano visto Brian alla guida di un veicolo a loro sconosciuto. Infatti quella era l'auto di Reagan. Poi il 10 febbraio Brian aveva mostrato a entrambe la macchina in questione dicendo loro che l'aveva appena acquistata da un tipo di nome TJ. Tuttavia le sue interlocutrici non avevano mai sentito parlare di quest'uomo. Inoltre entrambe affermano al processo che quel veicolo puzzava di benzina. Questo dimostra che Brian era in possesso dell'auto di Reagan dopo l'omicidio e che aveva tentato di darle fuoco ricorrendo alla benzina. Entrambe le donne spiegano che vedendo il viso di Brian al telegiornale e scoprendo di cosa era accusato erano terrorizzate. Tutte e due si angosciavano pensando che quello che era successo a Reagan sarebbe potuto accadere anche a loro. Come già detto Brian aveva ammesso di essere indirettamente il colpevole dell'omicidio di Reagan attribuendo il delitto all'operato del misterioso TJ che però non è mai esistito. L'accusa afferma che quella notte Reagan aveva secondato Brian nella speranza di uscirne viva. Lo aveva implorato di non ucciderla ma lui l'aveva sottoposta più di due ore di assoluto terrore e alla fine l'aveva ammazzata per assicurarsi che mai lei avrebbe potuto denunciarlo. Sul versante opposto la difesa sostiene che Brian merita la presunzione di innocenza come qualsiasi cittadino. Afferma che il DNA trovato sul corpo di Reagan non prova che proprio nel momento dell'omicidio Brian si trovasse insieme a lei, che le avesse fatto violenza in quell'occasione e che fosse entrato all'interno della sua macchina. Vale a dire che Brian avrebbe potuto aggredire Reagan e salire forzatamente a bordo della sua auto anche un'altra notte. La difesa però fa una supposizione azzardata perché sa che l'accusa ha raccolto degli elementi solidi. Come detto non c'è soltanto l'evidenza del DNA ma sussistono anche le prove del GPS collegato alla cavigliera elettronica dell'ex detenuto e i diversi video di sorveglianza che lo avevano ripreso insieme a Reagan proprio durante quella notte. La difesa però chiede alla giuria di valutare Brian con empatia. Gli era stata impartita un'educazione molto rigida, poi a un cui davvero basso, al limite della disabilità intellettuale. Inoltre anche lui aveva subito violenza intima quando era molto giovane e soffriva di un grave disturbo depressivo maggiore tanto che aveva provato a togliersi la vita diverse volte. Durante tutta l'infanzia era stato maltrattato e trascurato dalla sua famiglia e questo lo aveva portato a fare uso della polverina bianca, una sostanza che aveva prodotto un impatto negativo nei suoi comportamenti e sulla sua salute mentale. Con questo discorso la difesa intende chiarire che Brian non è uno psicopatico, né un criminale calcolatore. Aveva assalito la vittima perché era bisognoso di soldi ma non era riuscito a gestire la situazione spingendosi infine troppo oltre. Il fine della difesa è ottenere quanto meno che Brian non venga condannato a morte bensì all'ergastolo. Del resto i suoi legali sostengono che se Brian fosse stato un assassino intelligente e calcolatore non avrebbe indossato la cavigliera elettronica durante il compimento del delitto. Lui invece si era addirittura preoccupato di ricaricarla per assicurarsi che non si spegnesse e ne pagasse le conseguenze. Una mossa insensata considerando il gravissimo crimine che aveva commesso di lì a poco, uccidendo Reagan. L'accusa infatti afferma che queste congetture non hanno importanza. Rimane il fatto che Brian è un assassino orribile e che merita la peggior punizione possibile. La giuria al termine delle udienze che si sono sviluppate per circa una settimana si ritira per deliberare e impiega 5 ore e mezza per tornare con il verdetto. I giurati concludono che Brian Goldsby è colpevole di tutte le accuse che gli sono state rivolte. Tuttavia l'imputato non viene condannato a morte ma allergastolo senza la possibilità di libertà condizionale. Dopo la sentenza il giudice sottolinea di essere felice che Brian morirà in prigione dato che Reagan non meritava ciò che lui le aveva fatto. Pronuncia queste parole. Devi capire che lei non ha fatto nulla di male. Ti è stata risparmiata la vita perché almeno quattro membri della giuria hanno ritenuto che la tua educazione fosse un'attenuante quindi hanno considerato la tua infanzia. Eppure Reagan che non ha commesso alcuna cattivazione ha perso la vita a causa del tuo passato. Tu vieni risparmiato in virtù del tuo vissuto ma lei ha smesso di esistere. Te lo ripeto lei non ha fatto nulla di male. Era al lavoro. Dopo questa sentenza l'accusa presenta una mozione di 53 pagine chiedendo che venga riconsiderata la pena di morte. L'accusa sostiene che la giuria ha commesso un errore legale nel ritenere che il passato di Brian fosse sufficiente per decidere che lui non meritava la pena capitale. L'accusa spiega anche che alla giuria era stato detto che la difesa non aveva l'onere della prova nel presentare le circostanze attenuanti. Ciò significa che magari aveva inventato degli eventi del passato di Brian che infatti non potevano nemmeno essere accertati. Tutto per mitigare le azioni dell'imputato. Ad esempio la presunta violenza intima che Brian aveva subito in tenera età. A questo proposito l'accusa ritiene che Brian aveva cambiato versione. A volte diceva di aver subito violenza a 10 anni, altre volte a 12 e in un'altra occasione ancora a 13 anni. Anche il luogo di questa presunta violenza variava. Brian a volte diceva che era avvenuta in un negozio, altre volte nel retro di un'attività commerciale e in un'altra occasione addirittura per strada. Cioè nonostante la giuria aveva erroneamente valutato questo episodio della violenza come un fatto certo che per l'accusa quindi non può rappresentare un attenuante. Tuttavia la mozione dell'accusa viene negata con la motivazione che la giuria aveva ricevuto istruzioni adeguate. L'accusa quindi torna al lavoro per portare il caso alla Corte Suprema. Intanto al termine di questo procedimento la famiglia di Reagan è furiosa sia con il dipartimento di riabilitazione e correzione dell'Ohio che con la società madre della cavigliere elettronica che avrebbe dovuto supervisionare gli spostamenti di Brian. Dunque i parenti della vittima intentano una causa sostenendo che entrambe le entità erano state negligenti che non avendo né riabilitato Brian né tracciato i suoi spostamenti gli avevano permesso di commettere l'omicidio di Reagan. Se Brian non fosse stato rilasciato così presto o se una volta tornato a piede libero fosse stato adeguatamente controllato Reagan adesso sarebbe ancora viva. Onestamente sono d'accordo con la famiglia di Reagan. Brian aveva commesso un crimine dopo l'altro nei giorni che precedono il suo omicidio. La gente aveva paura di quest'uomo mascherato che se ne andava in giro a derubare e a ferire delle donne ma nel frattempo la polizia si limitava a dire che non era ancora riuscita a identificarlo. Peccato che la persona responsabile di tutte queste aggressioni stava indossando una cavigliera elettronica che avrebbe dovuto essere monitorata dalle forze dell'ordine. Purtroppo la causa contro il dipartimento di riabilitazione e correzione dell'Ohio viene negata. I familiari di Reagan riescono a sottoporre il caso perfino alla Corte Suprema che però si rifiuta di rivalutarlo. Non riescono neanche a fare causa alla società madre della cavigliere elettronica. Ma nonostante ciò la famiglia di Reagan non si arrende. Continua a lottare per promuovere la sicurezza delle donne e la riforma del sistema di giustizia penale. Collabora con il congresso degli Stati Uniti per approvare la legge di Reagan talks nel dicembre del 2018. Questa normativa si riferisce ai termini minimi stabiliti dai giudici crimini catalogati di classe 1 e di classe 2 come ad esempio omicidio, molestie intime, rapina aggravata ma anche aggressione semplice, furto di piccoli importi. Si prevede che quando gli autori di questo tipo di reati vengono rilasciati al minimo termine, prima del rilascio il loro caso deve essere accuratamente presentato al dipartimento di riabilitazione e correzione dell'Ohio. Questo istituto deve quindi tenere una riunione amministrativa e di riesame per escludere che l'autore del reato abbia adottato un comportamento improprio e che dunque possa rappresentare una minaccia per la società in cui dovrebbe essere reinserito. In caso la valutazione abbia un esito negativo, allora il detenuto deve restare in prigione per scontare la pena massima. Se invece il colpevole ha dimostrato di aver avuto una buona condotta durante la detenzione, le autorità competenti sono autorizzate a ridurre la pena minima dal 5 al 15%. La speranza è quella che i delinquenti più violenti rimangano dietro le sbarre il più a lungo possibile, mentre coloro che hanno veramente dimostrato di essere cambiati possono rimanere in prigione per un periodo di tempo più breve. L'intento è cercare di proteggere gli abitanti dell'Ohio dai criminali più pericolosi, rilasciando in anticipo quelli a cui sono state rivolte accuse minori e attribuiti reati meno gravi, proprio per fare spazio ai delinquenti maggiormente temibili. Ad ogni modo, approfondire questo caso mi ha trasmesso davvero tanta amarezza. È davvero deludente leggere di circostanze in cui i malviventi tornano a piede libero prima del tempo, nonostante abbiano esibito comportamenti problematici durante la detenzione, suggerendo che non smetteranno di commettere dei crimini. Per di più capita spesso che, dopo il rilascio, i responsabili del loro monitoraggio non svolgano accuratamente il loro lavoro. Si affidano la speranza che il delinquente violento, etichettato come ad alto rischio di recidiva, smetta di commettere crimini. Ma, ahimè, la realtà presenta dati ben diversi, dimostrando che spesso questi delinquenti così classificati continuano a commettere crimini anche durante la detenzione, sotto sorveglianza. Dunque, non è difficile immaginare come potrebbero comportarsi all'esterno, soprattutto se non vengono controllati. Questo caso costituisce un esempio lampante. La triste vicenda che coinvolge Regan Tux evidenzia nel detenuto un modello di comportamento addirittura degenerativo. Il suo assassino aveva già commesso un crimine come la violenza intima che gli era costata la prima incarcerazione. E poi, dopo il rilascio, non soltanto ha replicato lo stesso reato, ma addirittura ha deciso di sbarazzarsi della vittima, di ammazzarla per evitare che lei testimoniasse e lo collegasse al crimine subito. Purtroppo, delle situazioni del genere si verificano spesso e questo è sia assurdo che avvilente. Mi infastedisce constatare questa mancanza di responsabilità da parte della Commissione per la Libertà Vigilata e delle altre autorità incaricate di tenere traccia degli spostamenti di Brian. Gli hanno davvero permesso di importunare, derubare e ferire diverse persone, per concludere poi con il tragico omicidio di Regan. Probabilmente Brian doveva essersi reso conto che nessuno stava effettivamente esaminando i suoi spostamenti, altrimenti lo avrebbero catturato prima dato che aveva messo in pratica una serie di aggressioni per raccimolare pochi dollari. Questa lacuna nel controllarlo ha incentivato Brian a commettere crimini sempre più gravi. Onestamente mi si spezza il cuore se penso a Regan e alla sua famiglia. Questa giovane donna aveva così tante nuove esperienze da fare, aveva tanta voglia di far brillare la propria vita ed era altruista, voleva dedicarsi ad aiutare gli altri diventando una psicologa. Purtroppo le è stata strappata la vita da appena 21 anni e senza alcuna ragione. È un epilogo devastante e straziante, soprattutto considerando che, come detto, questo omicidio avrebbe potuto essere evitato. Eppure una serie di errori giudiziari e di verifiche mancate ha spinto Brian a sentirsi intaccabile e a uccidere Regan la notte dell'8 febbraio 2017, lasciando la sua famiglia e i suoi amici con un vuoto incolmabile. E questo ci porta alla fine di questo caso e quindi alla fine anche di questo video. Ovviamente sono molto curiosa di sapere le vostre opinioni. Quando vengo a conoscenza di questi casi mi arrabbio sempre molto, perché queste persone vanno controllate. Se una persona è fuori libertà condizionale e tra l'altro si rischia che questo criminale ricompia dei reati, bisogna stare attenti. Perché altrimenti succedono queste cose e delle donne completamente innocenti che stavano conducendo la loro vita potrebbero finire male, come è successo a Regan. Io sono davvero molto dispiaciuta per lei, per la sua famiglia. È davvero terribile tutto ciò. È terribile perché non si è stati in grado di tenerla al sicuro. E questa cosa è davvero a mio avviso molto molto grave. Questo è stato davvero un terribile errore giudiziario che ha portato alla morte una giovane donna che stava semplicemente uscendo dal suo posto di lavoro per rincasare. Fatemi sapere voi cosa ne pensate di questo caso. Lo conoscevate già? Io come al solito sono curiosa di leggere tutti i vostri pensieri, tutte le vostre opinioni. Quindi come al solito ci becchiamo qui sotto nei commenti. Nel frattempo vi mando un bacione. Noi ci vediamo prestissimo al prossimo video. Mi raccomando fate i bravi, continuate a mangiare le verdure che continuano a far bene, ma soprattutto prendetevi cura di voi e fate ciò che vi rende felici. Basta che non facciate nulla di criminale. Ciao a tutti! Ciao a tutti!